Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Litto e benvenuti su Kingdom Hearts Union Cross. Questa mattina, 9 novembre 2017, abbiamo ricevuto un update del client di gioco, quindi sostanzialmente quando succedono questi update in cui dobbiamo andare a fare l'update direttamente o dal Play Store o dall'App Store si tratta veramente di update molto più sostanziosi di un semplice update dei contenuti di gioco e quindi c'è bisogno di andarne a parlare. Qualcosa già si vede da questa schermata, preferisco però partire dalla notice. Questa non è a tutti gli effetti una scoperta dell'update, perché comunque l'ho già fatto. Ho preferito cercare di fare più una recensione di quello che è questo update, dato che magari così posso aiutarvi a capire quali sono le aggiunte e soprattutto come sfruttarle al meglio. Ragazzi, menu other notices ormai è il nostro path quotidiano. Allora, potremmo partire dalla maintenance, ma in realtà non c'è molto da dire sulla maintenance. Ci avvisava che avremmo speso del tempo guardando una schermata in cui ci dice che appunto non era possibile accedere al gioco ma che ci sarebbe stata una manutenzione. Parliamo piuttosto di version 2.4.0 update notes. Allora, vediamo da subito che non sono tanti i punti che sono stati cambiati o che sono stati aggiunti, ma questo non vuol dire che non si tratti di un update sostanzioso. Adesso lo vedremo insieme, ci saranno tante cose di cui parlare, però leggiamo prima la notice. Allora, ci dice che appunto oggi 8 novembre è stato, cioè a dire il vero 8, ma in realtà per noi è stato 9 novembre, è stato fatto un update del gioco e ci dice che siamo alla versione 2.4.0. Ci dice che qui sotto c'è una lista completa delle cose che sono state aggiunte. Allora, ci dice che è stata aggiunta la feature booster, di cui andremo a parlare molto molto presto. È stata aggiunta una feature chiamata mission, quindi missione o missioni. E dopodiché ci dice che sono stati aggiunti. Intanto è stata aggiunta un'icona per identificare quelli che sono gli utenti del party che sono online. Quindi c'è un'iconcina verde, ma la vedremo tra un secondo. Dopodiché sono state migliorate, quindi c'è adjusted, quindi aggiustate addirittura le notifiche relative ai Red Boss. È stata aggiunta una auto battle feature. Quindi la stessa dei Red Boss, la stessa che era presente a livello dei Red Boss, è stata estesa a tutto il resto del gioco. E dopodiché ci dice che è stata aggiustata la possibilità di salvare questa auto battle function. Come funziona? Essenzialmente, adesso lo vedremo, in una quest qualsiasi. Partiamo quindi da qua, partiamo dalla parte più semplice, che è quella della auto battle. Ci prendiamo una quest qualsiasi, in questo caso andiamo a prenderci una quest che è sicuramente molto molto neutra, che io vorrei andare a fare. Spero che il gioco carichi molto velocemente. Allora, ok, ci siamo. Special. Allora, diciamo che forse non è completamente necessario dover fare questa prova insieme a voi. Ma la faccio perché comunque non siamo tutti utenti esperti, non siamo tutti utenti che vengono da un background, magari qualcuno si sta approcciando anche solo adesso al gioco. Comunque, mi raccomando, alla fine del video darò una mia valutazione anche, spero non vi offendiate, non sono un maestro assolutamente. Cerco di dare un'opinione da utente ormai navigato. Ecco, come potete vedere, in basso a sinistra abbiamo il bottone auto, come vi dicevo, come per i Red Boss. Che cosa cambia sostanzialmente con questa aggiunta? Vabbè, lo capirete presto. Giocheremo molto meno sicuramente, questa cosa già potrete capire che non mi fa impazzire. Però c'è di buono se non altro che anche con i Red Boss, una volta che abbiamo cliccato il pulsante di auto, certamente va avanti. Ma quando ci troveremo di fronte ad un nuovo nemico, salverà lo stato di uscita dalla battaglia. Quindi se siamo sul bottone di auto, lo riattiverà immediatamente alla prossima battaglia. Quindi non solo giocheremo molto meno, ma come vedete io ho le mani alzate, non ho cliccato auto. E dato che l'avevamo attivato alla scorsa battaglia, allora lo attiverà anche questo turno. Adesso, giusto per completezza, finisco questa quest. In realtà, forse ragazzi, ci sta come non ci sta. Per una persona che crea contenuti su questo videogioco, è ottimo. Nel senso che mi permette di parlare senza dovermi perdere troppo in discorsi astrusi. Però, per chi ama giocare a questo gioco, ragazzi, è una possibilità in più per staccare le mani dal gioco. E non solo le mani, anche gli occhi, ragazzi. Perché ormai il Colosseo diventa un'automazione di un concetto molto stupido, secondo me, che è quello di non giocare a tutti gli effetti il gioco. Ovviamente, magari, a qualcuno può piacere, a qualcuno no. Io, in questo caso, non l'apprezzo come feature. Nei raid boss ci stava molto, ma magari, se proprio c'era la necessità, per quanto riguarda il Colosseo, di automatizzare questa cosa, allora, ragazzi, ci stava. Ma forse solo nel Colosseo. Non ne vedo l'utilità di aggiungerlo anche nelle missioni. Perché altrimenti adesso, veramente, la proud mode, ma anche la story mode, diventa semplicemente un cammina. E poi, il nostro setup fa tutto. Andiamo avanti a parlare delle notices, perché comunque non abbiamo finito. Allora, abbiamo visto prima quella cosa lì, di cui non c'è una vera e propria notice. Parliamo invece adesso delle missions, cioè delle missioni all'interno del gioco. Allora, finalmente saranno contenti tutti quelli che volevano che a tutti i costi la versione giapponese fosse uguale alla versione global, perché anche da noi sono state aggiunte le missioni daily per ottenere i 200 jewels. Penso che siano 200-300, adesso non mi ricordo precisamente. Allora, dato che c'è stata questa aggiunta anche nella versione giapponese, è stata rimossa la quest special, tra le special, per ottenere questi jewels, ma è stata aggiunta questa modalità, questa piccola sezione all'interno del gioco, che ci consente, facendo svariate... facendo svariate missioni, di andare a prendere questi jewels. Adesso vi faccio vedere come funziona. Ci dice che completa queste daily and weekly missions, quindi queste missioni giornaliere e settimanali, per ottenere varie e favolose rewards. Esempio di missione, completa 5 quest oppure guadagna 5 milioni di lux insieme a tutto il tuo party. Potete vedere le vostre missioni là su in alto, bla bla bla, collect e collect all. Ci dice che se clicchiamo il tastino challenge, ma adesso lo vedremo, anzi no, forse non lo vedremo perché l'ho già fatto, se cliccando su quel bottoncino challenge, ma se state aprendo il gioco adesso lo vedrete, allora vi porterà direttamente al menu delle quest. Dunque, ci dice che ci sono un totale di 4 categorie di missioni beginner, che appaiono solamente per i giocatori che hanno iniziato a giocare da 30 giorni a questa parte. Ottimo ragazzi, è un po' per prendere un po' il giro della ruota. Perché ci sono le missioni daily, che sono quelle che compaiono giorno per giorno, weekly, che sono quelle che compaiono settimanalmente, e le limited, che compaiono probabilmente durante eventi molto speciali, che adesso non sappiamo, magari in concomitanza dell'anniversario, in concomitanza di Halloween, Natale, e chi più ne ha più ne metta, spero di non aver dato un pugno al microfono. E niente, adesso lo andiamo a vedere, questo menu delle missions, prima di passare ai boosters, perché è la parte forse più di cui è necessario parlare. Cliccando sul bottone missions potremo vedere tutte le missioni giornaliere, in questo caso io come missioni giornaliere avevo complete one quest, quindi completa una quest, due quest, tre quest, cinque quest, ottieni un totale di 100 lux, mille lux, uccidi un raid boss, uccidi un totale di due raid boss, ottieni 10.000 lux, 30.000 lux, e via dicendo. È possibile collezionarne una per una cliccando collect, come vedrete otteniamo i 30 gius, oppure facendo direttamente collect all. Come vedete qua in alto io ho solamente il daily, perché io sono un giocatore che ha iniziato a giocare da più di 30 giorni, ma se siete beginner, allora vedrete a fianco un tab per i beginner. Questo è terribile secondo me in un certo senso, perché aiuterà un sacco tutti quei giocatori che vogliono rerollare gli account quando esce una medaglia broken, come è stata Kyriex. Dunque, chi ha pulato Kyriex e ha deciso di mollare il proprio account per darsi a questo nuovo account, allora magari con questo tab beginner è in grado di rifarmare molto velocemente e ottenere un account equivalente a quello che aveva, solo perché c'è questo tab beginner. Quindi, non lo so. Sono scelte ovviamente, la daily ci sta, secondo qualcuno la daily non fa bene al gioco, per me ragazzi sono jewels in più, piacciono a tutti, pullare è la cosa che ci piace più fare, assolutamente, e quindi ci può anche stare secondo me. Andiamo a parlare dell'ultima parte di questo update, che è quella relativa ai boosters. Ci sono dei nuovi boosters che sono dei potenziatori, diciamo, come potete vedere dall'iconcina qui sopra di me, e ci dice che ce ne sono di vario tipo. In questo caso è la settimana, o perlomeno è l'evento, forse è il mese, dei booster relativi all'attributo power, e ci dice che potremmo ottenere questi booster come ricompense per degli eventi speciali, perché ci dice che si attiveranno automaticamente per le medaglie che ne possono appunto godere, e quindi non c'è bisogno né di attivarli né di utilizzarli. Andiamo a capire immediatamente di che cosa si tratta, magari qua mi fa vedere alcune cose che magari non voglio nemmeno impazzire a cercare di vedere, perché voglio farvelo vedere direttamente da me. Allora, una delle altre notices è relativa a questo evento, che è praticamente l'evento nuovo dei boosters, è un evento essenzialmente che, dato che hanno introdotto questa nuova reward, ci fanno vedere appunto che è possibile ottenerlo. L'evento però dura più quest, non so, probabilmente ci danno un totale di tre booster come ci fanno vedere dalle immagini appunto delle notices. Come vedete già dalla prima possiamo ottenere un booster, che è quello qua in alto, e che cosa succede ottenendo questo booster? Come vi diceva dalla news, non è necessario né attivarlo né utilizzarlo, ma andando nel nostro account, come vedete, comparirà una nuova scritta al di sotto del Nova, che appunto recita Boosters. Cliccandolo potremo vedere tutti i boosters che siamo riusciti ad andare a prendere. A che cosa serve? Questo P, booster più 25%, beh dunque ricordatevi che l'attributo è power, e ricordatevi che è più 25%, perché a questo punto non basterà fare altro che andare a vedere le medaglie all'interno del vostro Keyblade, che sono power, in questo caso HDC on, e vedrete che compare una nuova icona a fianco a quella del guilting. Ovviamente tutte le regole classiche del guilting, si applicano, il video che ho fatto della guida rimane attuale, però c'è un lieve cambiamento che sommandosi alla percentuale del guilting, che si va a sommare, che va appunto a moltiplicare lo special attack, abbiamo una nuova percentuale in aggiunta. In questo caso il 25%, appunto vi ricordate che vi ho detto, ricordatevi 25% è power, perché questa medaglia è power, e ha 25% di trinket attivato. Sicuramente sarà possibile andare ad ottenere più di questi trinket, di questi booster, se li chiamo trinket, però mi sono appropriato di un termine che forse è sbagliato, e comunque vanno a staccarsi, vanno a staccarsi nel termine inglese, quindi a far pila, quindi uno può averne più attivati, in questo caso si vedeva anche dalla notice un 40%. Di cosa ne penso di questi boosters, ragazzi? Penso che sia un'ultima trovata per cercare di scuotere un po' il gioco, ma io sento veramente, e lo dico con il cuore in mano, che questo gioco sta veramente affrontando forse la sua fase di decrescita, forse chi aveva sparato il progetto, chi da Mars Union Cross, non pensava che si sarebbe arrivati a questo punto. Dunque io credo che questo sia un update, che ovviamente fa sempre bene al gioco, nel senso che ci piace avere cose nuove, ci piace sperimentare cose nuove, però credo che andare nella direzione di cercare di avere sempre più potenziamenti, quindi avere un setup sempre più potente e sempre meno intelligente, e avere anche un sistema in cui con l'autobutton giochiamo il meno possibile, allora credo che si stia andando a perdere il bello di questo gioco, il bello dell'inizio, il bello delle skill. Ragazzi non c'è più bisogno di usare Sleep, Poison e nemmeno Paralysis, non c'è più bisogno del Triple Threat, ormai il Colosseo è solo frutto di chi è veramente più potente. E lo dico forse, mi ha svegliato forse la situazione del non aver trovato Kairi X, quindi forse mi ha fatto bene, in realtà era una medaglia che volevo tantissimo, però veramente mi son detto, ma dove stiamo andando? Dove sta andando il gioco? E quindi secondo me era giusto che vi sottolineassi questa mia vena di malcontento in questo gioco. Ovviamente è sicuramente derivata anche dalla tristezza di non aver trovato una medaglia come Kairi X, però sostanzialmente è fondamentale capire dove il gioco sta andando e se veramente il gioco che stiamo giocando oggi è lo stesso gioco di cui ci siamo innamorati qualche tempo fa. Dunque ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video e di aver guardato questa recensione assieme a me. Come avrete capito, sono contento del fatto che aggiungano cose, ma non sono contentissimo della direzione in cui stanno andando. Qua c'è la news dell'evento, ma ovviamente ne abbiamo già parlato insieme. Ovviamente ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace perché mi aiuta veramente tanto. Siamo arrivati ai 170 iscritti e le live che facciamo ragazzi sono veramente divertentissime, ci divertiamo come dei matti e ovviamente ho un supporto molto forte da parte vostra e questo mi aiuta soprattutto psicologicamente perché ovviamente è solo praticamente psicologico. E ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, magari lasciatemi anche un commento per dirmi voi cosa ne pensate di quest'update e soprattutto cosa ne pensate della mia opinione riguardo a quest'update perché mi piace che si crei un po' di discussione. Iscrivetevi per non perdervi i prossimi contenuti su questo canale e noi direi che ci rivediamo in un prossimo video riguardante Kingdom Hearts Union Cross. Alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao! Ciao!